ModCraft con i borghazzini Da un'occhiata veloce che ho dato ha vinto l'autocrafting Quindi lo andremo a iniziare molto molto presto Non so ancora quando perché ho ancora un paio di idee per la mente Però devo decidere quando lo andremo a fare e per cosa lo andremo a utilizzare Ma oggi vi voglio chiedere una cosa sulla nuova mod che sono andato a installare Non ancora completamente perché sto avendo dei piccoli problemi Nulla di così grande, dovrei riuscire a risolverli senza problemi Che è la cosiddetta ICMB che è questa mod che possiamo trovare qua Vediamo dovrebbe essere coperta da questo nostro speed buff ma non importa E dovrebbe trovarsi da qualche parte qui in fondo ma eccola qua quindi ICMB Però per esempio non mi fa craftare certe cose perché devo ancora installare tipo dei moduli e delle cose del genere Che al momento non ho ancora installato Quindi la prima domanda del giorno di oggi è se volete oppure no un episodio speciale su questa nostra nuova mod Io pensavo di farlo nel prossimo episodio essendo l'episodio 115 Quindi se volete questo nostro episodio speciale ditemelo perché è una domanda piuttosto importante Perché se non me lo dite non posso sapere se lo volete oppure no In più negli ultimi episodi ci sono stati meno commenti Quindi avete diciamo una chance maggiore per essere il commento del giorno E come al solito la seconda domanda del giorno è che se avete progetti, idee, commenti O diciamo cose varie o cose che vorreste capire O cose che non avete capito diciamo voi della nostra serie o del diciamo delle mod Potete pure dirmele che magari ve le spiego e vi dico come si utilizzano, come si fanno Oppure come le andrei a fare io Comunque passiamo al commento del giorno di oggi che è di iiii extreme iiii Che ci dà un progetto piuttosto interessante Ho tolto parte del suo commento per non renderlo troppo lungo Che è quello di fare una piramide diciamo piuttosto enorme perché verrebbe piuttosto grande Di tutti gli or che esistono in Minecraft Quindi non una del beacon block ma una piramide diciamo separata Per diciamo mettere in display tutti gli or che esistono anche quelli delle mod Quindi potrebbe essere una cosa un po' estrema da fare Perché vorrei anche metterli in ordine diciamo di importanza o di rarità Potrebbe essere una cosa migliore da fare Però l'idea che avevo era quella di andare a creare questa nostra piccola piramide E di utilizzarla o di utilizzare l'interno o diciamo la parte sotto La parte sotto di essa per creare qualcosa di interessante Quindi se avete anche un'idea su cosa potremmo creare sotto questa nostra piramide potete pure dirmelo E pensavo per esempio di iniziare a farla non lontano da qua Perché la vorrei diciamo poter vedere da casa Quindi dovremo trovare un'area piuttosto grande da utilizzare Perché diciamo sarà piuttosto grande perché abbiamo tutti gli or normali di Minecraft Poi per esempio abbiamo l'uranio Poi abbiamo il tin, abbiamo il bronze Abbiamo un sacco di blocchi da mettere In più richiederà un sacco di materiali Quindi non so dove l'andremo a fare Perché come vi ho già detto è piuttosto grande Ma state tranquilli che l'andremo a fare prima o poi E ringrazio Xiii Extreme per la sua idea Non so perché ma mi piace pronunciare le i all'inizio del suo nome Che poi forse saranno L o dei uno ma non lo so E nulla appunto questo mi piaceva molto come progetto Perché diciamo riportava anche il let's play E lo andremo a fare molto molto presto Comunque parlando d'altro voglio dirvi che Se scegliete che nel prossimo episodio andremo a fare La nostra mod Cercherò di spiegarvi solo le basi di essa Perché è veramente veramente grande Ci sono un sacco di cose da scoprire su di essa Però un'altra cosa che mi avete detto in molti È quella di separare un po' Computer Craft dalla serie Allora l'ultima cosa che andremo a vedere oggi Sarà l'ultima cosa per un po' di tempo Perché diciamo è una cosa che ci serve Capire per portare avanti la nostra mob farm Ma per il resto non c'è null'altro che devo spiegarvi per ora O diciamo null'altro che ci interessa Quindi iniziamo a lavorare all'episodio di oggi Lavorando e portando avanti la nostra mob farm Ok allora la prima cosa che andremo a fare ora Sarà fare un mini cheat che non è proprio considerato un cheat Allora come sapete noi per trasportare i nostri mob Andremo a utilizzare Miss Craft e questi suoni di Minecraft Che mi fanno saltare dalla sedia Che appunto non può o non ci permette di utilizzare i cosiddetti linking book Per teletrasportarci nello stesso mondo Quindi per esempio questo linking book è un linking book che porta qui dentro E non me lo lascio utilizzare perché è appunto linkato a questo mondo C'è un blocco che una volta veniva utilizzato per diciamo convertirli E per mettere appunto ai nostri libri di trasportarci nel mondo stesso Però al momento è stato disabilitato e attivato solo per la creativa Perché diciamo il creatore della mod lo trovava un po' cittare Allora nella versione originale questo nostro blocco che si chiama link modifier Utilizzava 91, no 81, sì 9x9 81 diamanti per essere fatto Io non sacco e non penso che diciamo dando 81 diamanti sia proprio cittare Perché alla fine è piuttosto costosa come cosa Quindi ne andrò a prendere un bel po' Non voglio neanche stare a contare guarda prendo due stack Anzi uno stack e mezzo non so neanche quanto è dovrebbe essere 96 Quindi 96 meno vediamo facciamo così Quindi 6 ci porta a 70 E ora li dobbiamo dare altri 11 quindi siamo perfetti a 81 Ecco qua perfetto E questi li andremo praticamente a buttare nel nostro cestino Quindi non ho nessun modo di recuperarli E ci andremo praticamente a regalare il nostro link modifier Che poi non è il regalare perché alla fine diciamo abbiamo pagato 81 diamanti Quindi non è proprio il regalare Se a voi non piace che ho fatto questa cosa non mi importa veramente molto Perché sinceramente io non lo trovo cittare dando così tanti diamanti Quindi quello che io posso fare qui dentro ora è dirgli un po' di cose Io andrò a utilizzare solo intralink Che è quello di appunto poter utilizzarlo nello stesso mondo Quindi ora è utilizzabile e mi posso riteletrasportare qua E diciamo ogni volta che l'utilizzerò Butterò via un tot diciamo di Woomatter Quindi tipo adesso butterò uno stack di Woomatter Ogni volta che l'utilizzerò per cambiare un libro Quindi non è cittare Lo capite anche voi perché Dai non potete dirmi che cittare se butto anche via uno stack di Woomatter Comunque fatto questo voglio andare a inserire il nostro link in book Anzi lo teniamo via da parte per un secondo perché prima c'è un altro po' di cose da fare Allora la prima cosa che dobbiamo fare è collegare i nostri pistoni al nostro receiver Che eccolo qua è perfetto Lo possiamo mettere magari sul muro che è un po' più semplice da utilizzare E poi possiamo collegare con il nostro red alloy wire i nostri pistoni In modo da attivare e disattivare l'intero meccanismo Quindi qua andremo a mettere il tutto Proviamo ora a testare con la nostra leva se funziona È sempre utile portarsi una leva Non sembra attivare perché la leva è troppo in alto Però possiamo fare da qua e potete vedere che si attiva i nostri pistoni E ora possiamo toglierla e possiamo passare all'altra cosa L'altra cosa sarà andare a posizionare i nostri grinder nei punti giusti Che saranno diciamo quelli proprio sopra i blocchi dei nostri pistoni In modo da poter uccidere i mob Quindi magari giriamoli dal lato giusto Dovrebbe venire questa faccia qua Eccola qua E poi visto che diciamo i nostri lati sono separati Quindi abbiamo uno di qua e uno di qua Quello che voglio andare a fare per rendere il tutto un po' più semplice È utilizzare due diciamo piccoli mini network Di sia per l'energia sia per gli item Quindi per esempio l'energia la possiamo dare da sotto E troveremo un modo per portagliela Potremmo fare così e mettere qua due di questi Sì forse funzionerà non ne sono sicuro E faremo la stessa cosa di qua E poi per gli item magari da dietro Anzi il liquido da dietro se non ricordo male Quindi prendiamo il liquido da qua E poi lo colleghiamo qui sopra Vediamo dove sono i miei liquidi Liquid duct E lo possiamo mettere qui sopra E poi come ultima cosa dobbiamo Prendere gli item Quindi gli item verranno tirati fuori da sopra E ci serviranno un paio di ender chest per farlo Che appunto ci serviranno per portare gli item a casa E ora praticamente l'unica cosa da fare È replicare tutto questo dall'altra parte E diciamo collegare il tutto E testare il tutto che appunto funzioni E che riceva l'energia Il liquido venga mandato dove deve venire mandato Eccetera 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 Ok ora andremo a scoprire una piccola cosa Per la quale ho già fatto un mini setup qua Vi spiegherò fra poco a cosa ci servirà Per capire come andremo a utilizzare E come andremo a portare avanti la nostra mob farm Grazie ai computer Allora per chi non è stato attento negli scorsi episodi Abbiamo un piccolo comando che si chiama lua Che è anche il nome del nostro linguaggio Che ci permette di diciamo aprire questo piccolo prompt Per scrivere dei programmi O per scrivere diciamo delle funzioni Giusto per testarle e vedere come funzionano Quindi cosa possiamo fare con questo piccolo setup Che abbiamo fatto qua Allora abbiamo due possibilità Abbiamo la possibilità di prendere un input di redstone Cioè fare il comando rs Che starebbe per redstone Potete anche scrivere redstone completo Ma è molto più semplice scrivere rs Punto get input E li possiamo dire front Che è il davanti E poi li possiamo dire anche Li possiamo dire appunto front Questo è per l'input E potete vedere che quando lo premiamo Ci dice false Perché appunto l'input è spento Quindi ci dice che non c'è nessun input Ed è il segnale spento Se noi invece facciamo rs Appunto Vediamo Dovrebbe essere Get output Non proprio get output Ma dovrebbe essere un comando molto simile Dovrebbe essere Vediamo se mi ricordo Set output Vediamo set output Poi li diciamo front di nuovo Che è il nostro lato E li diciamo che lo vogliamo True Quindi lo mettiamo true E potete vedere che così ci attiva questo nostro segnale di redstone Quindi abbiamo get input Che ci permette di prendere l'input E di capire cosa appunto succede lì davanti Ora se lo rifaccio ci dice che è true Perché l'abbiamo attivato E poi abbiamo set output Che è quello per diciamo segnare e cambiare Lo stato di un diciamo lato di redstone E a proposito abbiamo sei lati sulla quale lavorare Per esempio front, back, left, right E bottom e top Che alla fine sono quelli meno utilizzati Però si utilizzano anche quelli Poi sempre collegati a questi Abbiamo un'altra piccola cosa un po' più complicata Allora abbiamo il cosiddetto RS Set output O anzi se dovrei dire Set bundled output Allora perché c'è la parola output Perché c'è la parola bundled in mezzo Beh la parola bundled sta per Il nome di questi cavi qua Che si chiamano bundled cable Della quale ne ho già un po' con me Che possono essere utilizzati Per utilizzare questo altro tipo di Di cavi che si chiamano Insulated wire Di questi nostri insulated wire Ne esistono un bel po' Ne esistono 16 Come i colori della redstone O scusate della lana No della redstone Però ognuno di questi diciamo È un cavo di redstone Ecco per quello Mi stavo distraendo con le parole E diciamo Ognuno di questi corrisponde ad un numero Esistono degli API Che dicono Ok questo numero corrisponde a questo colore Giusto per semplificarsi la vita Ma per diciamo Spiegarvi un po' come funzionano i numeri Questo nostro primo lato Il nostro bianco È diciamo il numero 1 Quindi il primo numero è 1 E 1 sta anche per attivo Quindi 1 è attivo 0 è disattivato Quindi non c'è nessuna valuta Quindi questo in poche parole Attivo corrisponde al numero 1 Poi abbiamo il nostro arancione Che per derivarlo Possiamo fare 1 per 2 Quindi 2 volte 1 fa 2 Quindi l'arancione sarà 2 Stessa cosa per il magenta Quindi 2 per 2 fa 4 Quindi il magenta sarà 4 Poi abbiamo il light blue che sarà 8 Il yellow che sarà 16 Il lime che sarà 32 Eccetera 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 Praticamente va secondo livelli binari E diciamo continua così Quindi se fate per 2 per 2 per 2 Arrivate fino al black Che ha un numero enorme Che ora non ricordo Però sicuramente lo potete provare a fare Se qualcuno di voi lo fa Me lo lasci così me lo salvo E non devo più calcolarlo ogni volta Scusate però Quello che possiamo fare È praticamente dirgli Ok io voglio che tu fai Un output bundled Da questo lato qua Quindi vediamo qual è Right Questo dovrebbe essere right Quindi possiamo dirgli Right Se lo scrivo anche giusto E li possiamo dire Magari mettimi il 2 Quindi quando io attivo il 2 Andrà a attivare l'arancione Se io lo rifaccio E metto un altro numero Per esempio il 4 Andrà a attivare il 4 Se io metto l'1 ora Andrà a attivare l'1 Che è il bianco E questo lo posso fare Con qualsiasi colore Se metto il 0 Si andrà a disattivare Quindi potete vedere Che è molto molto utile Come cosa E possiamo anche fare Un'altra cosa piuttosto interessante Che è quella di fare 1 più 2 Per esempio 1 più 2 Ci attiva i primi 2 Perché 1 più 2 fa 3 Per arrivare a 3 Dobbiamo fare questo Più questo Però se per esempio Io voglio fare Che ne so Il numero 6 Come facciamo il numero 6? Beh dobbiamo avere 4 Che è questo Più 2 Quindi possiamo fare questi Possiamo fare il numero 7 Che li attiva tutti e 3 Quindi potete vedere Che è molto molto Diciamo variabile la cosa Oppure per esempio Possiamo andare a numeri più alti Però potete vedere Che non si attiva nulla Perché? Perché il numero massimo Che possiamo fare Con questo piccolo setup È 7 Come possiamo capire Qual è il numero massimo? Beh potete fare Praticamente Un piccolo calcolo Qual è Diciamo il colore dopo E che numero è il colore dopo Per esempio Il nostro light blue Sarà il numero 8 Quindi noi possiamo arrivare Fino a 7 In questo caso Se il nostro colore Se il nostro ultimo colore Fosse il giallo Potremmo arrivare a 1 2 4 8 16 Potremmo arrivare a 31 Perché appunto Il lime è 32 Quindi noi possiamo arrivare Al numero prima del lime Quindi è una cosa che Diciamo si può utilizzare In migliaia di modi Possiamo Per esempio Abbiamo un sacco di combinazioni Anche con solo 3 Diciamo colori Quindi appunto È piuttosto interessante Come cosa E noi andremo a sfruttare Questa cosa Per decidere Quali Diciamo Sponer attivare Noi non andremo A scegliere Ogni singola cosa Andremo a mettere Uno per ogni singolo Diciamo Colore Quindi per esempio Io voglio attivare Il primo Che non riesco a vedere Da qua sotto Ma è Vediamo cos'è I ragni Li dirò Ok tu attiva l'uno Anzi no Questo è i pigments Sembrano i pigments No no sono i ragni Ok Quindi io voglio attivare i ragni Li dico ok Attiva l'uno Io voglio per esempio I creeper Vediamo che colore è È il giallo Che dovrebbe essere Il 16 Ok attiva il 16 E in più Qui sotto Andremo a fare un altro Piccolo collegamento Che ho già fatto Che arriverà qui sotto Nel nostro Punto di uccisione Dei nostri mob Che ci servirà Per attivare E disattivare I nostri pistoni Quindi sarà un bel po' di lavoro Da parte mia Diciamo Riguardante La parte di Coding e cose varie Quindi lo andrò a fare Nei prossimi episodi E vi farò vedere L'intera cosa completa Una volta che sarà finita Una volta che avrò fatto il tutto E una volta che appunto Ve la posso far vedere Bella e pronta Da utilizzare In modo da Non sprecare tempo Su questo nostro Progetto Quando appunto È una cosa Estremamente Noiosa da fare Avevo un numero Perfetto di Bundle cable Ok Lasciamo stare Ora voglio passare L'altro Quindi Bundle champion Blah 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 Ok ora andremo A craftare un po' di cose Che ci serviranno Molto molto presto Perché ho droppato Questo nostro Advanced circuit Non lo so Comunque la prima cosa Che ho craftato È il nostro Hologram emitter Vi farò vedere Tra poco Per cosa lo utilizzeremo Però prima Voglio craftarmi Una portal gun Che ci servirà Per Fare una piccola cosa Con il nostro Diciamo Posto di villager Però prima Voglio anche andare A mettere A comprimere Queste nostre mesh Che ci serviranno Anche queste ora E voglio anche andare A recuperare Il nostro Electric jetpack O anzi Il nostro Advanced electric jetpack Eccolo qui E ora possiamo Finire di craftare E fare il tutto Allora La nostra portal gun Ci servirà Per il nostro Spostamento Dei villager Voglio metterne Una lì Giusto per essere Sicuro Diciamo Di non perderla E di non Dover sempre Spostare Quella che abbiamo Noi a casa Quindi la metteremo Qua Lasciremo qua La nostra portal gun Quindi quando Arrivo qua La voglio prendere La voglio utilizzare Posso prenderla Posso spostare I villager Rimetterla lì E non avere problemi Diciamo Di Di Doverla Riordinare O di doverla Riportare a casa Quindi la possiamo Sempre lasciare lì E appunto È giusto una piccola cosa Che voglio fare Giusto per Semplificarmi La vita Poi Voglio craftare Una nuova chest plate Che è Non proprio nuova Però la voglio craftare Comunque Che si fa con Un advanced jetpack Una nano suite Dei carbon plate Un advanced circuit E un paio di glass fiber E si chiama Advanced nano chest plate Allora è praticamente Una fusione Fra l'advanced jetpack E la nano suite Body armor Quindi ci dà Sia difesa Sia ci ricarica Gli attrezzi Questa l'andrò A scambiare A volte Con quella che ho Su al momento Si potrei utilizzare Una quantum O potrei craftarmi Una gravity chest Che è estremamente Difficile a fare Ma diciamo Questa è abbastanza È abbastanza buona Diciamo come Come armatura E la voglio utilizzare Solo per potermi Ricaricare gli item Quando non sono a casa O cose del genere Poi Cosa voglio craftare Voglio andare a fare Una cosa che non è Proprio craftare Ho craftato Sì Il hologram meter Che si fa con Della glowstone Del vetro Del cactus Del rose red Un lapislazzoli E un pezzo di wiring Che si va con Due golden nugget E una ransom Per andare ad aggiungere Un piccolo Una piccola cosa Al nostro Al nostro Al nostro Al metto Che lo possiamo fare Tramite il tinker table Quindi voglio aggiungere Il cosiddetto Aura meter Che ci permette di Vedere L'aura di Towncraft 2 Potevi vedere che ora Nel In basso a sinistra E' apparsa Questa piccola barra Che ci dice Qual è l'aura E qual è il flux Che sarebbe Come messa Diciamo l'area Se il flux È minimo Se è massimo Eccetera eccetera Per esempio Se io salgo di sopra E vado Nella nostra Casa Quella di Towncraft Che dovrebbe essere questa Potete vedere che qua L'aura è più grande Ma anche il flux È molto più Pericoloso Perché ci dice Dangerous Quindi è meglio Non stare lì E un'altra cosa Che voglio fare È praticamente Mostrarvi come Io attivo E disattivo Il jetpack Per quelli che Non lo sanno O non se lo ricordano Allora Per attivare E disattivare Il jetpack O qualsiasi Nostro Diciamo Cosa Che noi vogliamo Possiamo premere Il tasto Il tasto Che è quello Installato dalla mod Potete vedere che qua Abbiamo il nostro jetpack E quando io premo L Che potete vedere Che ho fatto qua Il nostro bind Va a attivare E disattivare Il jetpack Quindi per esempio Se io voglio Attivare E disattivare Che ne so Il danno da caduta Posso magari fare Con il tasto new Poi posso premere Il tasto che ci interessa M per esempio Che è già impegnato Quindi proviamo B B è impegnato Proviamo il 1 Ok è preso Anche quello Mio dio Un tasto che non è utilizzato Proviamo L'esc Si potrebbe funzionare Non penso Però proviamo di nuovo Ah no si funziona Ecco qua Quindi l'esc Quindi ora possiamo prendere Il nostro Danno da caduta Collegarlo All'esc E quando io Premo esc Lo attiva E disattiva Ora non penso funzioni Perché appunto Esc è diciamo È collegato ad altro Però è praticamente così Che si fa Quindi se io magari Lo voglio disattivare Anche questo Con la L Posso premere la L Ora E potete vedere che ci dice Jetpack acceso E shock absorber acceso Quando lo ripremo Ce li disattiva Quindi è giusto una piccola cosa Che mi avete chiesto in molti Per appunto Come lo posso fare Come lo fai Tu spiegacelo E per ora Lo andrò a togliere Perché non ci serve Perfetto Allora Penso che per questo episodio È tutto Voglio andare un attimo A controllare Quanto tempo ci rimane Perché vorrei ancora dirvi Un paio di cose Però appunto Ci rivediamo Fra un secondo Ok come non detto Siamo già troppo Oltre i 20 minuti Quindi per questo episodio È tutto Io spero che vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare Mi piace commentare Iscrivervi E fare tutte le cose Che dico in ogni Santo e singolo episodio E vi ricordo di rispondere Alla domanda Anzi Alle domande del giorno Se volete Diciamo Far parte un po' Della serie E se volete anche lasciarmi Un commento Che mi aiuta molto E nulla Con questo saluto Bella raga Qui danne fra